Come scegliere l'università e la facoltà che fa per me? Questa è una domanda soprattutto per i ragazzi che si affacciano al proprio percorso universitario, quindi stanno terminando le scuole, ma è anche una domanda per gente più grande, per professionisti che vogliono completare un proprio percorso o effettuare un cambio di carriera. Allora cercherò di dare una risposta complessiva, partiamo proprio dai ragazzi, perché quello che trovo è che molto spesso anche nei percorsi di orientamento che si fanno alla fine della scuola viene bombardati da così tante informazioni che più che orientamento a volte ci si disorienta, perché sono degli orientamenti centrati sul promuovere o comunque portare delle testimonianze e far toccare un po' più da vicino la propria facoltà, ma non sono di certo centrati sulla persona. Dei percorsi magari promossi dalla scuola possono fare questo, e quindi diventa poi difficile andare a comprendere che tipo di percorso andare ad intraprendere. Innanzitutto partiamo dal primo punto. Il primo punto che riguarda lo studio di per sé è l'università. Quello che succede, soprattutto nell'università italiana, che è molto teorica come percorsi di studi, quindi non va spesso nel pratico e nel pragmatico, ovviamente poi ci sono dei percorsi in cui è strettamente necessario, e quindi diventa qualcosa che viene fatto davvero e viene fatto per bene, e spesso quello che si ha come preparazione è una preparazione a parte, cioè che non è totale e completa, per esempio molto spesso la preparazione ti forma, ma non ti permette poi di entrare nel mondo del lavoro, e proprio in riferimento a questo quello che sento di dire è che troppo spesso i lavori per cui ci si sta preparando sono in continua evoluzione, e quindi addirittura io inizio un percorso e tra cinque anni quel lavoro potrebbe anche non esistere più, potrebbe essersi trasformato, oppure sto studiando per dei lavori che ancora faticano ad affermarsi. Quindi questa è la prima considerazione da dover fare, facendo anche la premessa che ovviamente ci sono dei percorsi che necessitano di un certo tipo di formazione. Parliamo per esempio delle professioni di tipo ordinistico, ordinicistico, cioè quelle che hanno un ordine e che quindi prevedono un esame di Stato alla fine di un percorso di studi, per fare quel tipo di professione ovviamente devi seguire tutto un iter. Ci sono anche altri percorsi in cui la prima domanda da porsi è ma effettivamente è questa la strada, cioè quella di un percorso universitario, per arrivare a fare e a svolgere quella professione? Io ho raccontato spesso la mia esperienza, che parte da un'esperienza in lingue e in una recente intervista quello che ho detto è molto probabilmente mi è servito di più il processo, cioè il percorso di per sé, non quello universitario, ma andare a studiare fuori, organizzarmi nello studio, essere autonoma e indipendente, più che il percorso inteso come materia e quello che sto studiando. Questo perché gran parte della mia formazione linguistica in quel caso si è potenziata proprio da esperienze che ho costruito durante il percorso di studi e esperienze totalmente esterne. Quindi quello che dicevo nell'intervista è non mi sento di consigliarlo al 100%, a meno che non sia molto focalizzato e molto diretto. Quindi questo è un po' il primo punto. Il secondo punto, che sento di dire, è di valutare quali sono le tue passioni, valutare quali sono le tue attuali competenze, quello che effettivamente ti piace e ti incuriosisce, perché comunque affrontare un percorso di studi per scelte indotte, quindi perché ci hanno detto che questo ci assicura al lavoro, quindi è un percorso che ci permette di entrare nel mondo del lavoro facilmente, oppure perché ci hanno detto che sarà interessante, sfruttando anche un po', sfruttando, andando ad agire un po' anche sulla confusione che magari una persona può avere nello scegliere quale percorso di vita intraprendere, quello che possiamo tralasciare è che poi dobbiamo andare a studiare lì per tre, cinque anni, non solo, ma poi c'è un approfondimento costante per rimanere aggiornati e quindi rimanere al passo con i tempi nel mondo del lavoro. Fare questo senza una passione, senza una curiosità e senza un grande coinvolgimento è veramente tanto difficile. È difficile addirittura proseguire anche oltre al primo anno. Io ho conosciuto tante persone che hanno frequentato facoltà anche con un grande sforzo nell'accesso, parlo per esempio medicina che ha dei test che sono belli impegnative, che quindi richiedono grande preparazione per poter entrare, che poi arrivati al primo anno si rendono conto che non fa per loro e a volte non riescono a uscirne fuori, perché potrebbe essere una delusione nella loro percezione per gli investimenti dei genitori o per persone che credono in loro. Allora, quindi il secondo punto riguarda le passioni, cioè senza darti dei limiti, quali sono gli elementi, gli aspetti che ti appassionano, che sono davvero forti nella curiosità per te e che ti coinvolgono. Il terzo punto poi è quello che riprende un po' cosa stavo dicendo poco fa, cioè quello del fallimento. Una scelta di vita non è la vita e c'è sempre l'opportunità di poter tornare indietro, fare un passo indietro e poter cambiare, non soltanto quando si ha 90 anni, ma anche quando si è più grandi e si ha l'impressione di non poter fare un cambio di carriera, perché noi abbiamo questo grande potere personale che nel momento in cui lo esprimiamo e lo manifestiamo, allora possiamo dare una direzione diversa al nostro percorso. E che significa? Che se dopo il diploma, se durante l'arco della tua vita a un certo punto vuoi prenderti del tempo per riflettere, non significa che sei un nulla facente, anzi, significa che molto probabilmente stai iniziando a sperimentare, vuoi riflettere, perché non sia una riflessione piatta, cioè sto lì sul letto a girarmi i pollici, a guardare il soffitto, ma attiva, per poter comprendere in prospettiva che cosa fare. Quindi questo è molto importante, così come è molto importante anche fare un passo indietro rispetto ad un percorso intrapreso, cioè non è detto che se sei in un percorso in lingua allora poi a un certo punto la tua vita sia già insegnata, anzi, potresti andare avanti in un certo percorso e a un certo punto dire forse è il tempo di cambiare, forse è il tempo di capovolgere un po' le cose e far quello che mi fa star bene. Questo mi porta quindi all'altro punto, collegato all'influenza, cioè decidi un po' e nota un po' se stai facendo questo per te o se lo stai facendo per altre persone. Per quanto sia importante l'influenza che molto spesso hanno gli altri, capire che è poi la nostra vita, è poi la tua vita, capire che le cose le fai per te, non per le altre persone, non per il riconoscimento altrui, di cui poi, sì, stai bene lì per lì, ma poi non basta, è capire che, equivale a capire che stai trasformando un devo, cioè lo faccio per gli altri, quindi significa che lo devo fare, in un voglio. Cioè quando lo faccio per me, significa che è una scelta consapevole, è una decisione, voglio farlo. E poi, infine, c'è l'ultimo punto. L'ultimo punto è quello, secondo me, più importante. Invece di stare a scervellarsi in come capire che facoltà fare, che università scegliere, eccetera, eccetera, diventare sperimentatori. L'atteggiamento dello sperimentatore è quello che non riguarda soltanto l'università, ma riguarda qualsiasi scelta di vita. Sperimentare significa mettere direttamente le mani in pasta, quindi creare delle occasioni nel volontariato, attraverso un progetto di divulgazione, come può essere quello sul web, come può essere anche quello che ci sta mettendo in contatto, attraverso delle interviste, quindi in una modalità indiretta, per toccare con mano quelle che poi saranno, o sono, le conseguenze di possibili scelte. Conseguenze, non inteso ovviamente in negativo, ma proprio gli esiti. Dove mi porterà questa strada? Le interviste, per esempio, cioè andare a chiedere alle persone non secondo te cosa dovrei fare, ma mi racconti un po' la tua scelta di vita, mi racconti come sei arrivato nel tuo percorso e soprattutto come si vive nel percorso che stai portando avanti tu, cosa senti, che tipo di vita stai conducendo, qual è la qualità, quali sono i pensieri e quali sono i valori che porti avanti. Questo è importantissimo perché effettivamente ti permette di fare esperienza, registrarla ed elaborarla prima ancora di fare determinate scelte. Lì dove puoi farla direttamente, allora ben venga. Lì dove invece può avvenire in modo indiretto e quindi attraverso l'esperienza di altri, puoi chiedere. Possono segnare una traiettoria che poi non è detto che tu debba seguire, ma può essere quella giusta. Il che significa, andando poi a generalizzare nella vita in genere, significa sviluppare soluzioni alternative per la propria esistenza. Grazie. 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 Grazie.